da qua e da qua gli ho dato via la registrazione da pallino rosso qua va bene vai piano vai piano 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 anche se parlate più veloce lo so ma faccia un po' penso tagliala magari no infatti io ti mandi un po' di bene ecco appunto dai ci vediamo ci vediamo al prossimo fine settimana sì ciao ecco sì ciao ecco applausi ecco applausi ecco applausi ecco applausi Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.